Il centro di riabilitazione Teri offre riabilitazione e fisioterapia completa di percorso in piscina calda a 34 gradi. Ti aspetta Cava dei Tirreni in via Gino Palumbo numero 19. Maggiori controlli nelle ore notturne ed un impianto di videosorveglianza nel piazzale esterno della scuola elementare del terzo circolo. A chiederlo sono i residenti della frazione annunziata ancora scossi dal terribile logo divampato la notte del 4 febbraio scorso nel parcheggio della scuola elementare che coinvolse e distrusse ben sette auto. In attesa dei risultati delle indagini gli abitanti si rivolgono all'amministrazione. A farsi portavoce dei residenti è l'avvocato Giovanni Delvecchio nonché consigliere comunale e capogruppo dell'UDC. Si capita sovente che nelle frazioni della nostra città accadono episodi riprovevoli come quello accaduto alcuni giorni fa nella notte del 4 febbraio dove sono divampate delle fiamme un incendio e sette auto hanno preso fuoco. Tra l'altro eravamo nei pressi di un plesso scolastico, lì c'è la scuola elementare. Io come capogruppo dell'UDC ho avanzato la proposta di intensificare i controlli su quella zona fino a quando l'autorità giudiziaria, perché l'episodio al vaglio dell'autorità giudiziaria non accerti la natura dell'incendio, doloso o meno. In ogni caso puoi anche pensare e valutare la possibilità di installare su questi punti un po' più a rischio degli impianti di videosorveglianza per dare una sicurezza non solo ai cittadini residenti della frazione annunziata, ma soprattutto alle famiglie che hanno i bambini che frequentano la scuola.